Politici ai Fornelli, gara gastronomica riservata agli amministratori in gara in competizione anche l'onorevole Antonio Razzi che ha preparato spaghetti alle vongole, intanto com'è fatto questo piatto? Ma è un piatto semplice, l'ho fatto anche quando ero all'estero ma più che altro del nostro territorio, del nostro mare di Pescara in modo proprio le vongole, proprio vengono le paparazze, le vongole che è proprio il ricordo proprio di Pescara, io questo lo facevo sempre all'estero perché oltre a presentare il bel piatto ma presentavo la città di Pescara e presentavo l'Abruzzo. Ecco un piatto leggermente controtendenza rispetto alle difficoltà che spesso e volentieri vogliono proporre gli chef professionisti perché la cucina è semplicemente un fatto legato a cose semplici e genuine. Sicuramente, le cose come si suol dire anche in abruzzese cotte e magnate, allora bisogna farlo una cosa originale, una cosa semplice e servirlo subito, questa è la tecnica anche per far gustare di più al cliente e questa è la base principale e le nostre cucine tradizionali, quelle abruzzesi sono fatti così, io spero che caro amico mio Paolo, te lo dico d'amico, io spiro sempre che questo tu continuerai perché questo è un buon segno per la nostra regione, per il nostro Abruzzo e per il nostro mare e per le nostre montagne perché abbiamo anche i piatti di origine della montagna. L'ha preparato anche al presidente Berlusconi questo piatto perché sappiamo che il Cavaliere è una buona forchetta. Sì, veramente io glielo farei volentieri, però ha così tanti chef che non c'è bisogno la mano mia, ma qualora lo vorrebbe glielo faccio molto volentieri perché è un grande degustatore, è un grande degustatore di vino rosso. Ma lo farebbe gustare più al Cavaliere Berlusconi o a Crozza? Ma diciamo che anche a Crozza per la grande simpatia che ha verso di me e per l'umorismo che ha avuto verso di me, mi sembra una cosa logica fare un piatto anche a colui che mi ha fatto diventare popolare. Come nasce la passione per la cucina per l'onorevole Antonio Razzi? La cucina risale da quando ero un ragazzino perché a quei tempi lì dovevo andare a zappare la terra. Addirittura? Eh sì, il mio dopo scuola era a zappare la terra. Per non andare a zappare la terra ho cercato di impararmi a cucinare. Allora ho scoperto tutto quello che mi faceva mia mamma, ho riuscito a saper cucinare e questo mi ha aiutato perché all'età di 17 anni, quando io sono partito per la Svizzera, io per me ero il re della cucina. Cucinavo tranquillamente, facevo la spesa è tutt'oggi che sono senatore della Repubblica, la faccio con molta passione anche quando mi trovo qui in vacanza al mare perché le vacanze lo faccio al mare di Pescara, mi diverto anche ad andare a cucinare, vengono i figli e dici voi rimanete qui al mare, fra mezz'ora partite perché fra 45 minuti il mangiare è sul tavolo. Siete stati tutti bravi, addirittura il direttore di Rete8 Pasquale Pacilio ha detto chiaramente che avrete senz'altro un futuro assicurato al termine della legislatura, lei che ne pensa? Magari ci mettiamo tutti d'accordo, apriamo un ristorante qui al mare da vecchi amici della politica alla cucina e perché no potrebbe attirare anche i più grandi curiosone per vedere se questi politici sanno fare qualcosa di buono. A parte gli scherzi in cucina siete riusciti a mettere da parte la politica e a trascorrere una giornata diversa dal solito? Ma guarda, io penso che questo, come ti dicevo, questo ne dovresti fare molto di più perché credo che anche lì si vede che la politica è tutto insieme perché da lì ci scambiavamo anche le forchette, diciamo anche i consigli, ci salutavamo, ci sorridevamo e queste cose purtroppo quando siamo in aula magari non succede. Non è che avete parlato di unioni civili, cosa del genere? No, assolutamente no, oggi abbiamo parlato di cucina abruzzese. In gara anche l'ex presidente del Consiglio regionale Vincenzo Del Colle, intanto in questa manifestazione politica ai Fornelli si è divertito? Molto, una gara simpatica, senza secondi fini, all'insegna dell'allegria e della buona cucina. Lei ha preparato un piatto, pizza e fui, un piatto storico, ma come lo ha preparato? Beh, ricordando gli insegnamenti, almeno quello che facevano le mie zie a Vagri in provincia di Chieti, tanti anni fa. La pizza di Gran Turco, le rape, qualche piccolo accorgimento, è un piatto della tradizione nostra contadina, della sopravvivenza che riprende quota ed è apprezzato. Ma in cucina, come è andata? Ci dica la verità, si è parlato di politica o si è parlato davvero di cucina abruzzese? Beh, veramente forse è stata un'occasione simpaticissima per non parlare di politica, perché oggi è una mia cattiveria, ma parlare di politica non è molto entusiasmante. E parlare di cucina e soprattutto operare nella cucina invece è stato di entusiasmo simpaticissimo con diversi partecipanti a questo lavoro, qualificati, appassionati soprattutto, che hanno fatto delle cose buone. Oggi lei è un esperto del settore gastronomico, a parte il suo elaborato, come ha trovato gli altri? Tutti buoni, anzi direi anche qualcuno, quasi tutti, mi correggo, ottimi per gli ingredienti e per la qualità dell'operatività culinaria. Insomma, oggi abbiamo assaggiato delle cose buone. Insomma, una bella giornata o un esperimento da ripetere? Una giornata molto bella. Mi augurerei che si ripeta, perché le cose belle vanno ripetute, giusto? Umberto Di Primo, sindaco di Chieti, prima di parlare del suo piatto, del piatto che ha presentato in gara, l'abbiamo vista a braccetto con il sindaco di Pescara. Che cosa vi siete detti? Abbiamo parlato dei piatti che abbiamo cucinato, ma credo che abbiamo anche dimostrato che il patto della crostata può funzionare anche per l'Abruzzo. Cioè, le cose buone si possono mettere insieme, poi ognuno rimane la propria idea. Io rimarrò sempre teatino fino al midollo, lui rimarrà quello che è, ma la verità è che possiamo tranquillamente dialogare sulle cose importanti che servono. Ma la possiamo fare anche cucinando dei piatti da poi far gustare a voi. Quindi nessun inciucio? No, mai, mai inciuci con Pescara e nemmeno con quelli di centrosinistra. Benissimo, allora parliamo di questo piatto, davvero un piatto che ha restato la curiosità generale. Spaghetti al Monte Pulciano d'Abruzzo. Come è fatto? Ma intanto ho fatto un piatto che potesse rappresentare tutto il nostro Abruzzo, no? Ed è un piatto fatto con l'olio delle nostre campagne e i nostri uliveti, fatto con la salsiccia dei maiali che noi alleviamo e uccidiamo nel periodo di gennaio in particolare. E soprattutto è fatto con il Monte Pulciano, che è il vino principe della nostra straordinaria ormai qualità di vini abruzzesi e pesce fuori un piatto che in qualche modo ha la forza delle nostre colline, ha il carattere assolutamente marcato del Monte Pulciano, ma poi sa legare con quella bonomia degli abruzzesi sapori un po' più forti e quelli un po' più cortesi e gentili. Un piatto spaghetti al Monte Pulciano che andava davvero molto forte anche nel suo locale, la buccia, ripatetina. Beh, insomma, quello lo facevano i miei, lo facevano sicuramente meglio di me. Io non ho, ahimè, avuto la capacità da una parte e nemmeno la fortuna di saper fare le cose che facevano loro. Comunque sia, com'è andata in cucina? Che cosa vi siete detti? Qualche screzio, qualche battuta di troppo? Cosa c'è stato? No, guardi, oggi abbiamo dimostrato come la politica si può confrontare sulle idee, si può scontrare sui progetti, ma poi quando si tratta di preparare piatti da far gustare a chi ci sta, come dire, ad aspettare, siamo capaci di stare insieme. E allora 5 Stelle, quelli sono un po' populisti, hanno fatto 500 grammi di pasta, proprio per far vedere che loro non mangiano e non bevono. Io ne ho fatto un chilo e mezzo. Il sindaco di Pescara ha fatto un risottino tutto striminzito perché loro sono, eh, io ho fatto una bella pasta con salsicce, Monte Pulciano e un chilo e mezzo di pasta. In gara si è rivisto anche il decano degli chef abruzzesi, Nuccio Campli, con un piatto davvero particolare, la zarina. Intanto spieghiamo com'è fatto. Beh, è un piatto tutto particolare. La gente sente il curry e pensa a un altro piatto. Invece il curry serve per camuffare tanti altri ingredienti, come il finocchio, la mela, il brandy e altre cose che non posso dire. Poi c'è la panna, c'è il pomodoro e la base anche, diciamo, gamberoni freschissimi e acqua di gamberoni preparati con le teste dei gamberoni. Oggi ci troviamo in questa splendida location, il ristorante Le Terrazze al sesto piano, al roof garden dell'hotel Esplanade di Pescara. Anche se politici ai fornelli è una manifestazione andata in scena a più riprese all'interno del ristorante storico Cenacolo di Francavilla al Mare, un locale che lei ha diretto per tanti anni e con successo. Intanto come ha trovato la manifestazione? Direi che ho creato, oltre che diretto, ed ero cuciniere nel mio locale perché amo la cucina. Io apro un'attività ma se non sono attore nell'attività non mi sento affatto soddisfatto. La manifestazione è andata benissimo, anzi tutt'altro, in questo splendido locale storico di Pescara e col mare di fronte meraviglioso dell'Adriatico. Che cosa dire? Una manifestazione veramente indovinata con tanti personaggi meravigliosi. Amministratori giovani e meno giovani, lei dall'alto della sua esperienza come li ha trovati ai fornelli? Perché lei sportivamente si è rimesso in gioco però senz'altro è una firma nel settore gastronomico regionale e nazionale. Diciamo sì, ho partecipato grazie all'amicizia che ho con Paolo Minucci perché era tacito che io sono un cuoco di mestiere ma anche se da 15 anni questa attività l'ho bloccata, l'ho fermata momentaneamente perché non è mai detta. Ecco perché sono d'accordo di non abbandonare i vecchi così chiamati. I giovani si sono comportati bene in cucina, hanno cercato di dare il loro meglio, qualche suggerimento l'ho dato, l'hanno apprezzato ed ho visto molta educazione nei giovani nei nostri confronti. Tra poco sarà assegnato il trofeo Rustichella ad Abruzzo, questa pasta che ha sponsorizzato l'evento però a lei volevo chiedere un giudizio su questi vini, vini Angelucci di Castiglione a Casauria che hanno accompagnato i piatti in competizione. Io sono un consumatore della pasta Rustichella perché è una pasta meravigliosa, poi è l'unica che ha creato oltre a della pasta normale meravigliosa è quella pasta che si cuoce in 90 secondi quindi per i piccoli e per chi ha fretta è meravigliosa. Abbinato al vino Angelucci poi è il massimo, io bevo il Montepulciano e ho assaggiato anche il Moscatello, un vino bianco, è veramente eccezionale, bella l'etichetta, bella la bottiglia, una presentazione meravigliosa. Che esperienza è stata per la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Sara Marcozzi in questa rassegna? Politici ai fornelli qui a Pescara al ristorante Le Terrazze? Beh certamente un impegno, un impegno, una grossa responsabilità, speriamo di aver fatto una buona figura io e Ottavio del Movimento 5 Stelle e speriamo insomma che sia piaciuto il nostro piatto. Allora parliamo di questo piatto, carbonara della nonna, come è fatto e quali sono i segreti se si possono dire? Allora la ricetta è un segreto chiaramente perché è una ricetta di mia nonna per cui potrei dirtela ma poi dovrei ucciderti. Allora meglio di no. Però è una rivisitazione della carbonara, è leggermente più leggera, invece del pecorino c'è il parmigiano reggiano stagionato 36 mesi e invece del guanciale c'è la pancetta, però è sempre un piatto strutturato e gustoso. Com'è andata in cucina? Ci dica la verità. È andata bene, è andata bene. Ma con i rappresentanti del centro-destra, del centro-sinistra, che cosa vi siete detti? Ma poco, poco. Ci siamo detti poco. Io sono stata sulla mia postazione per cui insomma tutto bene. Una manifestazione che vuole valorizzare la cucina tipica abruzzese attraverso l'impegno di amministratori consolidati, amministratori molto molto conosciuti. Il suo giudizio su questa iniziativa dopo averla vista da protagonista indiscussa? Beh, sicuramente un giudizio positivo. È stato a parte divertente perché insomma ci troviamo tutti i giorni ad affrontare questioni molto importanti per gli abruzzesi e molto gravose. Per cui in un'occasione in cui abbiamo la possibilità tutto sommato di giocare e di scherzare è bello. Però portiamo in tavola dei piatti di tradizione. Questo è un piatto, appunto dicevo prima, una ricetta di mia nonna che era di Villa Santa Maria. Per cui insomma... Una ricetta griffata. Esatto. Quindi insomma lei è riuscita a rilassarsi dopo le fatiche legate all'attività che la vede impegnata in prima fila? Assolutamente sì. Qualche ora di svago e insomma da adesso torniamo sul pezzo e torniamo a curare gli interessi degli abruzzesi. Un'idea originale per la tua festa? Rendila indimenticabile con il Festival della Melodia. Emozionante gara con il meglio della musica leggera. O con una serata di Miss Adriatico, storico e coinvolgente concorso di bellezza internazionale. O addirittura con il Festival dell'umorismo. Esilerante sfida tra barzellettieri con risate a crepapelle. Insomma, spettacoli per tutti i gusti e con grande risalto mediatico. Affidati dunque alla trentennale esperienza dell'Agenzia Promozione Spettacoli. E chiama subito il 337 91 71 11. Il divertimento ti aspetta! Prima volta in gara in questa simpatica rassegna politici ai fornelli per la senatrice Stefania Pezzopane con il piatto La Pastorella. Andando con ordine, come ha trovato la manifestazione? Molto gradevole, belle persone, grande clima di simpatia, di serenità e poi ovviamente l'opportunità di valorizzare le nostre piccole conoscenze in arte culinaria e i prodotti meravigliosi della nostra terra. Lei ha preparato un piatto tipico aquilano, la pastorella. Forse qualcuno non lo conoscerà ancora. Allora, approfittiamo dell'occasione per parlare proprio nel dettaglio di questo elaborato. Sì, la mia è una reinterpretazione della pastora, la pasta appunto con la ricotta. Io la faccio a modo mio e comunque gli ingredienti base sono tutti ingredienti della nostra terra. Quindi ricotta della montagna, presa proprio dal pastore, zafferano dell'aquila, come quello del film famoso Ratatouille, e il guanciale, la pasta che appunto io chiamo la pastorella assolutamente solo con il guanciale. Poi ci sono dei piccoli segreti nel mixare questi ingredienti e nel dargli il giusto equilibrio. Quindi la ricotta viene mescolata con lo zafferano che si fa sciogliere in acqua calda e contemporaneamente si mette il guanciale tagliuzzato per bene in una pentola adeguata e poi si mescolano, una volta lessata la pasta, tutti gli ingredienti. Deve venire molto cremosa. A me piace delicata, non piace la pastora come a volte capita su qualche tavola di ristorante grezza, un po' forte. In genere insomma funziona. Insomma ha dimostrato di essere un'esperta anche in questo settore. Complimenti alla senatrice Pezzopane, ma siete riusciti in cucina a mettere da parte la politica quest'oggi? Sì, siamo stati in un clima molto sereno, molto da conviviale proprio. Abbiamo scherzato anche sulle questioni politiche, ci siamo anche consigliati. È stato un momento molto carino, molto divertente. Purtroppo molte persone ci vedono come dei marziani, come delle persone distanti. E noi siamo persone normali e io alla mia normalità ci tengo tantissimo. Quindi cuciniamo, oppure non cuciniamo. Cucino da quando avevo sei anni, perché mia madre lavorava e io ero la prima che rientrava a casa. Arro la più piccola, quindi la scuola elementare finiva prima. E mi diceva, mamma, metti l'acqua a bollire. Siccome io sono caparbia e anche un po' curiamo anche questo, e lo scontro politico non è l'unico aspetto della nostra vita. Molto spesso ci si aspetta da noi solo cattiverie, insulti, liti o un atteggiamento quasi finto di distanza dalle cose reali. Noi siamo come tutti voi che ci state ascoltando, con difetti, pregi. Lavoriamo molto, almeno per quello che mi riguarda, lavoro moltissimo. E se mi capita una cosa del genere lo faccio volentieri, anche per gratificare i nostri produttori, che hanno grandi qualità da promuovere e che a volte dalle istituzioni sono praticamente ignorati. Ma un eventuale successo a chi lo dedicherebbe? Lo dedicherei a mia figlia, che sta anche lei piano piano entrando in cucina con il passo felpato del suo gentile garbo e della sua delicatezza e che però quando entra in cucina e si mette ai fornelli è una genietta meravigliosa. Al ristorante Le Terrazze di Pescara in gara anche il primo cittadino, Marco Alessandrini, con questo riso che è stato particolarmente apprezzato dalla nostra commissione. Intanto, com'è fatto? Il riso allo zafferano segue un procedimento semplice ma che richiede cura e amore. Bisogna girarlo per 25-30 minuti, un esercizio di pazienza ma anche un'occasione per rilassarsi. A me piace molto cucinare, lo faccio sempre meno da degli impegni, però oggi abbiamo coniugato l'utile e il direttevole. Abbiamo fatto una gara, abbiamo fatto un po' di show e ho potuto assecondare una delle mie passioni. Su un posto, peraltro, che amo molto perché questa è una terrazza incredibile, si vede tutta Pescara, si vede il mare, sembra di starci dentro e quindi anche lo chef ha la sua soddisfazione. È vero che ha fatto le prove tutta domenica? Domenica, caro Minnucci, lei che ha dei collegamenti, mi sono allenato. Mi sono allenato e l'ho riproposto in casa in una versione più ristretta quanto al numero di preparazioni, perché non so, per me e mia moglie. La First Lady, come sempre, mi ha guidato, me la sono portata qui anche per le sue preziose indicazioni. Ci siamo divertiti, è venuto fuori, credo, anche un prodotto discreto, ma soprattutto siamo stati insieme, ci siamo divertiti, abbiamo scambiato qualche parola fra cucina e politica anche con dei colleghi. Io amo le occasioni di confronto, magari informali come quella lì oggi e quindi siamo contenti. Infatti l'abbiamo vista particolarmente vicino al sindaco di Chieti, Umberto Di Primio. Che cosa vi siete detti? È possibile saperlo? Pur nelle diversità di impostazioni ideologiche, io ho sempre molto rispetto per chi ricopre il ruolo di sindaco, perché oggi è il ruolo più difficile della pubblica amministrazione, più sovraesposto e allora è sempre opportuno confrontarsi con i colleghi a qualunque latitudine, longitudine, sensibilità politica, perché i sindaci fanno comunque lo stesso mestiere. No, ma devo dire che c'è stato tutto un campionario di cose interessanti, il problema è che ce n'erano talmente tante, per cui chi è arrivato ultimo alla fine ha dovuto scontare un certo senso di sazietà. Ho mangiato gli spaghetti al Montepulciano del sindaco Di Primio, li ho apprezzati, ho mangiato degli spaghetti alle vongole del senatore Razzi, ma lì già era un po' pieno. Ottimo il piatto di Stefania Pezzopane, ma eravamo di fatto arrivati, quindi ne abbiamo assaggiato giusto un giro. Inquadrato il consigliere comunale di Chieti Ottavio Argegno con il suo piatto tortino di spinaci con crema di parmigiano. Intanto, qual è il suo rapporto con la cucina? È un rapporto conviviale in un certo senso, nel senso che io mi diletto a cucinare a casa per me, per mia moglie e per le bambine e quindi ogni tanto per gli amici che ho il piacere di invitare a cena a casa, quindi è un rapporto assolutamente conviviale e sereno in un certo qual modo. Non ho velleità e pretese di nessun tipo, mi piace ospitare i miei amici a casa e far sì che loro si trovino bene con le poche cose che riesco a cucinarli. In tutta sincerità, il piatto presentato è il suo piatto forte? Ma io mi diverto a fare anche altro. Mia moglie è stata un po' così, un po' titubante con le proposte che avevo pensato di portare qui e quindi questo tortino di spinaci è stato quello sul quale sia io che lei abbiamo, come dire, convenuto la presentazione quest'oggi. Quindi mi diverto a fare anche altro, diciamo così. In cucina tutto tranquillo o c'è stato qualcosa da raccontare? No, in cucina tutto tranquillo. È stato un ambiente abbastanza cordiale e goliardico, se vogliamo, vista l'occasione. Quindi abbiamo parlato anche con gli altri esponenti politici presenti, in particolar modo con il sindaco di Chieti, con Umberto Di Primio, che tra l'altro conosco da tempo perché tra l'altro siamo anche colleghi del Foro di Chieti. Ovviamente con Sara c'è un rapporto, come dire, privilegiato dal punto di vista confidenziale. Fraterno, esattamente, sì, sì, esattamente. E quindi no, tutto sommato una giornata all'insegna del buon umore, della serenità, diciamo così. Siamo usciti un po' dai ruoli istituzionali che ci contraddistinguono in questo periodo. Con Antonio Angelucci, titolare dell'omonima Casa Vitivinicola di Castiglione a Casauria, parliamo di questa bella esperienza. politici ai fornelli, lei è stato anche in commissione, si è divertito sinceramente? Mi sono divertito e vi ringrazio di avermi dato l'onore di partecipare a questa simpatica manifestazione. Parliamo di questa bella realtà, l'Angelucci Vini di Castiglione a Casauria. Oggi avete portato una vasta gamma dei vostri prodotti, poi voi avete riscoperto anche un vitigno storico, insomma siete davvero una delle eccellenze del territorio. Che cosa possiamo dire per far conoscere bene la vostra realtà ai nostri telespettatori? Noi quello che diciamo facciamo il vino solo per passione. La passione che ho per la campagna, la trasmetto ai vini e per i nostri clienti per far bere bene. Anche perché lei è un imprenditore, però ha sposato la causa del vino, facendo davvero un prodotto di qualità, esportato anche all'estero. Sì, la mia passione è stato il Moscatello, recuperare questo vitigno nove anni di sacrifici, di gioie, momenti non troppo belli, però in ultima siamo riusciti vincitori, sono contento. Secondo lei perché il vino abruzzese è così apprezzato oggi come oggi, anche all'estero? Perché lavoriamo bene i campi e facciamo un buon vino. Che tipo di produzione portate avanti? Al di là del Moscatello, questo vitigno storico, però fate una vasta gamma di vino? Ci abbiamo il pecorino che è molto buono, c'è la sola in Montepulciano per il momento. Dove vi trovate di preciso a Castiglione? Castiglione a Casauro, tra il Parco Nazionale della Maiella e il Parco Nazionale del Gran Sasso. Una zona molto particolare dove ci sono le gole di Tremonte e abbiamo sempre aria. Per le vigne va molto bene, che non c'è umidità, sono sane, pochi trattamenti e l'uva integra bella. Oggi i vostri vini si sono sposati alla perfezione con questi piatti storici della cucina abruzzese? Sì, senz'altro. È stato molto apprezzato il Travertino, d'altra parte un vino unico in Italia. In bocca al lupo. Crepe il lupo, grazie. Stefania Peduzzi, titolare del pastificio Rustichella d'Abruzzo di Pianella, sponsor dell'iniziativa Politici ai Fornelli, ha vinto un primo piatto davvero molto originale, spaghetti al Montepulciano d'Abruzzo del sindaco di Chieti, Umberto Di Primo. Intanto lei come l'ha trovata? Perché lei è stata in giuria. Sì, sì, ho trovato questo piatto molto particolare perché c'era proprio l'impiego del Montepulciano nel condire la pasta, quindi aveva assunto anche un colore piuttosto rosato. È stato veramente un piatto innovativo, devo dire, nonostante gli ingredienti erano della tradizione. Per il resto, come hai trovato questi amministratori, questi politici? In genere si dice, si critica spesso la politica, ma quest'oggi ai politici che cosa possiamo dire per il loro impegno in cucina? Allora, io dico che a tavola ci si mette tutti d'accordo, devo dire che è il punto dove tutti convergono e dove, ecco, le barriere non ci sono. Questo purtroppo poi nel mondo reale non è possibile perché è giusto che ci sia una divisione tra chi governa e chi ha l'opposizione, è la democrazia che garantisce questo, però ecco, gli animi sono votati a una politica, penso, di buonsenso. Allargando gli orizzonti parliamo di questa realtà che continua a farsi strada a livello mondiale, il pastificio Rustichella d'Abruzzo. Davvero un orgoglio per la nostra regione. Che momento vive? Questo è un momento di fermento per noi perché abbiamo in cantiere nuovi progetti legati sempre al territorio, quindi pasta sempre più con grano abruzzese, quindi questo è quello che ci siamo posti come obiettivo, riscoperta di alcune varietà per cui la sperimentazione e quindi la ricerca e comunque guardiamo anche al futuro con i prodotti che abbiamo lanciato l'anno scorso, la pasta che cuoce i 90 secondi, che ha dato dei buoni risultati soprattutto in Australia e negli Stati Uniti. E adesso anche gli chef italiani cominciano a strizzare l'occhio a questo prodotto naturalissimo, semola e acqua con trafile in bronzo. Quindi devo dire che procediamo, portiamo la bandiera dell'Abruzzo nel mondo. Complimenti. Grazie. In giuria quest'oggi, anche se poteva tranquillamente competere con i suoi colleghi, il sindaco di Villa Santa Maria, Pino Finamore, chef della Camera dei Deputati a Roma, quindi una bella esperienza in commissione, ma come sono andati i suoi colleghi ai Fornelli? Allora i miei colleghi sono andati benissimo, oltre quello che erano le aspettative. Diciamo anche che, come dire, se avessi gareggiato probabilmente avrei anche rischiato di fare qualche magra figura. Modestissimo. Perché i piatti erano di elevatura, diciamo, medio-alti, quindi sono stati tutti molto bravi. Ho appreso anche delle cose piacevolissime, per esempio il consigliere Marcozzi mi diceva che col piatto che ha preparato della nonna, dice, ma mia nonna è di Villa Santa Maria, quindi come dire, anche lì con le nostre radici siamo riusciti a trasmettere anche a chi oggi non vive più a Villa Santa Maria quelle che erano le tradizioni e la bontà dei piatti che le nostre nonne facevano. Poi questa è stata una giornata bellissima, come dire, da ricordare per l'iniziativa che hai avuto, cioè un'iniziativa veramente brillante, quindi le congratulazioni alla tua persona colgo l'occasione in questo momento di poterlo fare. E tornando invece a quelle che sono stati i piatti, il vincitore, forse il sindaco di Primio, è stato leggermente avvantaggiato perché sono figlio di ristoratori, quindi chi, diciamo, vive un po' la cucina e cresce dentro le cucine qualcosa apprende anche se non fa da mangiare. Ecco, ma tecnicamente cosa ha avuto di più questo piatto rispetto agli altri? Dunque, diciamo che lo spaghetto era al dente, la sfumatura del Montepulciano era fatta in modo egregio perché non si sentiva nell'alcol, nell'aroma forte del Montepulciano, quindi ha fatto una riduzione e poi ha amalgomato tutto con una salsiccia che non era molto forte, ma era equilibrata, diciamo, come sapidità. L'abbinamento con i vini Angelucci? Vabbè, quelli sono stati ottimi, è una cantina che non conoscevo e che oggi ho apprezzato per la prima volta, però sono degli stupendi vini, veramente eccellenti. Grazie a tutti.